Buonasera a tutti, questa sera ci sarà un evento dedicato al transatlantico più famoso della storia, che è il Titanic, e sono qui appunto insieme allo scrittore e storico Claudio Bossi, che tratta appunto di questa storia magnifica che va avanti da un sacco di tempo. Il signor Bossi vuole spiegarci come mai tratta del Titanic? Io mi occupo di Titanic da 34 anni a questa parte. Il Titanic ha urtato l'iceberg il 14 aprile 1912 ed è affondato dopo 160 minuti. Io credo che in quei 160 minuti sia andata in scena la rappresentazione della vita dell'uomo, nei suoi aspetti di umiltà, ma anche di ferocia e invidia. Io mi sono sempre chiesto come mai ci furono così tanti passeggeri maschi di prima classe sopravvissuti e il loro numero fu addirittura superiore ai bambini morti di terza classe. Allora la vecchia regola, prima le donne e poi i bambini, non è stata rispettata. Ecco questa differenziazione sociale, differenziazione sociale che è la caratteristica predominante della tragedia del Titanic, che è stato il momento che mi ha indotto ad occuparmi e descrivere di questa storia. E ha deciso di trattare di questo transatlantico famosissimo anche a distanza di molti anni dall'accaduto e come mai? Il Titanic è rimasto nel mito per una serie di fattori. Non ultimo, se pensiamo anche al fatto che nave coeve del Titanic, parlo del Mauritania, del Lusitania, non faccio l'elenco perché sarebbe esageratamente lungo, mentre queste navi sono diventate piloni di ferro, ponti o quant'altro. Invece il Titanic, seppur nella sua massa ferroginosa, è anche un po' sinistra se vogliamo e a 3810 metri sotto il livello dell'oceano c'è ancora un assetto di navigazione e ogni tanto dalla sua tomba oceana rilascia una bolla di verità sulla sua tragica fine. A bordo c'erano anche degli italiani, sa per caso appunto da dove venivano, che cosa facevano lì? A bordo, secondo la mia certificazione, c'erano 40 italiani. Se pensiamo che però all'epoca addirittura potevano essere molti di più, perché si pensa generalmente che parecchi camerieri italiani furono trasferiti dall'Olympic, nave germella del Titanic, appunto al Titanic, senza che il loro nome venisse registrato. Ecco, di questi 40 italiani, 31 erano camerieri e 9 erano passeggeri. In quanto camerieri, il loro turno all'accesso di giussaluppe e di salvataggio fu consentito solo dopo quello degli altri passeggeri, quindi il personale di bordo fu ben lontano da effettive possibilità di salvezza, quindi perirono tutti. Dei 9 passeggeri, e aggiungo solo il fatto che 3 furono i sopravvissuti, sopravvisse Emilio Portaluppi di Arcisate della provincia di Varese, sopravvisse Luigi Finoli di Atessa, provincia di Chiesi e sopravvisse anche l'unica donna italiana che era a bordo, Argene Genovesi, di Monte Carlo, provincia di Lucca. Un particolare curioso, se vogliamo, che era la donna e si trovava in stato interessante, cioè era incinta, e il novembre successivo diete alla luce una bambina che fu battezzata Maria Salvata, proprio in memoria di quella tragica notte.